bentornati buongiorno io non pot oggi vorrei parlarvi dell'aspetto sconcertante della propaganda a favore della società aperta filo soros filo open society filo liberale dei media dell'ovest riguardante le misure prese dal governo di budapest nei giorni scorsi approvate nei giorni scorsi dal parlamento misure straordinarie per chi diffonde fake news notizie false bene detentive da uno fino a cinque anni di reclusione e vorrei partire da un intervento di giorgia meloni a fuori dal coro di ieri da mario giordano su rete 4 e vorrei farvelo ascoltare la domanda di luisella costamagna cara meloni lei davvero non vede differenze tra i decreti del presidente del consiglio conte i poteri limitati del premier orban con appena 525 contagiati eventi morti sa che adesso in ungheria chi diffonde notizie false come ad esempio ipotizzare che il virus sia stato creato in un laboratorio cinese sulla base di quel video rai che anche lei ha rilanciato rischia fino a cinque anni di carcere in italia tutto questo non siamo arrivati perché su quello io non sono d'accordo ecco questo io non sono d'accordo sul fatto che possa essere punito qualcuno tacciato da non si sa bene chi di diffondere notizie false ecco adesso voglio capire perché anche una leader di un partito filo orban perché c'è una certo un certo feeling amicizia tra primo ministro ungherese e lei come possa credere alla propaganda iniziata come sappiamo dal video scorso ve l'ho fatto vedere da questo articolo che è un'opinione sull'ungheria come vedete scritto qui del guardian di domenica scorsa il guardian che parlava in questo modo la diffusione di notizie false informazioni false potrebbe portare potrebbe all'arresto e quindi nell'ordine della difesa dell'interesse pubblico e della buona informazione pubblica e questo potrebbe portare queste persone accusate davanti a un giudice e l'opposizione ha parlato così potrebbe tutto ciò portare all'arresto di giornalisti critici contro il governo e me fa veramente dispiacere che anche la meloni creda a questa propaganda messa iniziata qui iniziata dal guardian e poi sparsa da tutti i media che sono a favore della formazione della installazione della società aperta anche in italia tutti i media quindi che seguono questo questa visione della realtà che che seguono in un certo modo quello che quello che viene raccontato dall'ungheria da media molto di parte andiamo avanti questo è e quindi quindi questo che cosa significa che come dico sempre anche i partiti più a destra più diciamo contro il globalismo in italia sono diversissimi da quelli ungheresi e del gruppo di vicegrad c'è un abisso tra il conservatorismo di orban e la destra sociale italiana e la destra indipendentista o ex indipendentista di salvini c'è un enorme abisso tra l'europa centrale e l'europa dell'ovest andiamo avanti questo è un video di m1 della televisione pubblica ungherese che va a parlare di quali sono le fake news vediamo vi dico cosa viene detto questo che vedete è uno spot che al posto di vendere collane e anelli su a tv la televisione dell'opposizione in ungheria quella anti orban pubblicizza disinfettanti per l'occasione disinfettanti gel contro il coronavirus tre pezzi prezzo di partenza 60.000 fiorini quasi 200 euro il presentatore addirittura si scusa diverse volte perché il prodotto non arriva a tutti con voce sofferente è una fortuna che ce ne siano di pezzi dice alla fine il prezzo scende a 12.000 fiorini circa quasi 40 euro m1 ha interrogato l'azienda produttrice di questi gel che si giustifica in questo modo in ungheria non c'è un disinfettante contro il virus al contrario invece ci sono farmacisti che ne producono sulla base delle direttive dell'organizzazione mondiale della sanità alla domanda sull'etica e sul motivo del prezzo iniziale così alto non c'è stata alcuna risposta oltre a questo spot si moltiplicano in ungheria come dappertutto articoli venduti online di disinfettanti e mascherine miracolose a prezzi assurdi con commenti falsi la portavoce del garante della concorrenza vi faccio vedere più avanti se lo trovo un attimo eccola che si chiama call archingo dice di stare attenti raccomando di stare attenti alle offerte speciali spesso sono truffe invece il coordinatore un attimo eccolo il coordinatore di controllo cibernetico roino isoltan parla dei rischi di furti di dati a chi verso chi lavora ai danni di chi lavora a casa sappiamo adesso la storia dello smart working e quindi la protezione questo è il collettivismo queste persone non devono essere perseguite queste persone che vendono queste queste patacche perseguite penalmente devono rischiare devono rischiare la galera per per vendere prodotti illudere le persone su cose così gravi non dovrebbe essere un reato non devono essere perseguite penalmente questo a cui si riferisce la legge di orban la detenzione da 1 a 5 anni questa è truffa signori miei questo significa proteggere la popolazione questo è il collettivismo di cui tanto si parla quando si parla di democrazia e liberale di orban andiamo avanti oggi più che mai l'informazione influenza la nostra vita e la nostra sicurezza questo è uno spot di tg com della mediaset le notizie sono una cosa seria fidati dei professionisti dell'informazione capito ecco questa è mediaset andiamo invece quindi vi faccio vedere il panorama italiano coronavirus rai ecco la task force contro le fake news il messaggero la dd viale mazzini fabrizio salini e lo fa così da oggi la rai è una task force contro le fake news a guidarla antonio di bella attuale direttore di rai news di bella considerato degli area pd e figura che non dispiace affatto i 5 stelle ed è apprezzato anche dal centro destra partirà oggi l'osservatorio permanente in grado di raccontare a tutti che cosa una fake news è in grado di smentirla intanto sugli schermi tv non solo rai ma anche mediaset sky nelle pause pubblicitari appare uno spot dove si fa riferimento alle fake news che circolano in rete quindi anche in italia si combattono le fake news e qui meloni anche qui meloni chi è che dice che una cosa è fake news è in grado di smentirla come dice qui l'articolo di bella poi vediamo la dittatura ungherese perché non c'è libertà di informazione no i media sono tutti controllati vediamo questo questo sito questo portale di informazioni 444.hu che come ammette anche nel 2017 il direttore l'ex direttore ormai del sito del portale ha riconosciuto di aver preso 100 milioni di fiorini circa 300 mila euro da soros quindi è un portale di parte sostenuto dalla open society in questo portale se si digita urban victor ma anche nelle notizie più recenti quelle live in diretta vediamo che si scusatemi il termine sputtana orban il governo di fides continuamente questo è permesso in una dittatura questo è permesso nella vostra cina nella vostra cina comunista nella vostra cuba comunista nella vostra corea del nord comunista vediamo qui si sbertuccia orban per uno show americano negli stati uniti con trevor noah che prende come esempio di dittatore orban secondo si parla della presunta corruzione di un uomo di fides terzo si parla di come tusco il presidente del partito popolare europeo critichi orban e lo voglia di fatto fuori dal partito e quindi ancora più grave una misura ancora più grave della sospensione in atto di fides nel partito popolare europeo e poi si parla di come la stampa internazionale sia riuscita a sputtanare orban a sputtanare fides e il governo democraticamente eletto poi vi voglio infine parlare di come sono le carceri in ungheria io vicino a me a 200 metri a casa 300 metri ho un carcere molto più moderno molto ben messo molto più organizzato pulito e moderno di quello che avevo vicino a casa vicino a casa nella zona in italia e vi faccio vedere come i carcerati e questo questo è il filo conduttore del collettivismo di orban i carcerati perché sono in debito con la società e vengono mantenuti dalla società dai soldi dello stato devono ridare indietro come vi ricordate hanno i carcerati aiutato a costruire la barriera di filo spinato i cancelli al confine con la serbia nel 2015 e 16 adesso nelle carceri per l'emergenza coronavirus si producono i carcerati producono mascherine nel carcere di debrezza nella seconda città d'ungheria si producono al giorno 20.000 mascherine chirurgiche vi faccio vedere il video e ditemi se questo non è giusto se questa è dittatura vedete i carcerati hanno i macchinari gestiscono questa ormai si può dire fabbrica e fanno un servizio alla società perché questo è l'esivo della dignità dei carcerati perché dovrebbe esserlo loro sono in debito con la società e devono pagare un debito sono mantenuti dello stato e quindi devono dare un servizio allo stato non c'è nulla di di dittatoriale non vengono maltrattati vedete questo è un carcere in ungheria in scatolano le mascherine ecco spero di avervi dato un quadro diametralmente opposto rispetto a quelli che che da rispetto a quello che da tutti i media che danno tutti i media in italia nell'ovest europeo di un'ungheria dittatoriale di un'ungheria dove non c'è libertà di informazione so ho sentito notizie scandalose sull'ungheria in questi giorni anche dalla televisione pubblica in italia che in ungheria c'è un coprifuoco una libertà di movimento assente per due settimane almeno per due settimane se vi faccio inquadrare se vi inquadro la strada principale qui dietro casa vedrete un fiume di macchine la gente va continua andare a lavorare continua andare a passeggiare ma cosa cavolo raccontate dell'ungheria fake news ecco questo sfogo ci voleva se volete lasciate un mi piace iscrivetevi seguitemi su tutti i social fate una donazione per sostenere il canale alla prossima vi slatta rivederci